Ciao a tutti! Io sono Arwen, benvenuti nel mio canale! Oggi sono qui con voi di nuovo perché dopo aver finito il Vampiro Ray avevo detto che volevo iniziare uno degli altri personaggi ovviamente li farò tutti mano a mano però adesso io vorrei in particolare fare l'uomo lupo Shiba non so a quante di voi può piacere questo personaggio comunque siccome io, dato che a me piaceva prima di tutto Vampiro Ray e poi avrei voluto fare Shiba, adesso è il turno suo quindi io inizierei con Shiba, l'uomo lupo allegro, gli piacciono gli scherzi e aiuta gli altri è uno dei ragazzi più popolari della scuola e sembra essere una persona molto intelligente e in confidenza leggiamo la sua storia ovviamente cominciamo con questo uomo lupo non vedo l'ora episodio il primo è gratis come infatti con tutti allora, praticamente questo episodio non sapendo il significato del titolo significa appunto il terreno di caccia scelsi come compagno l'uomo lupo scelsi a Shiba perché scegli me demonio? oh mio dio, perché la trattano tutti male? cominciamo bene non è che mi importi, però perché stai mormorando? all'improvviso ti fa paura così tanta responsabilità? cosa? io? preoccupato? molte grazie, Shiba bene, non c'è niente che possa fare al riguardo così che farò il meglio che posso mentre parlava Shiba estese la sua mano destra verso di me grazie quando toccai presi la sua mano questa mi trasmise il suo calore e la sua dolcezza la sua mano è tanto grande è completamente diversa dalla mia allora? che cosa dovrò fare ora che sono la tua guida nel campus? hm? Shiba sei un'idiota perché? Chloe è appena arrivata, no? dovrai insegnargli tutto quello che deve sapere sulla vita nel campus insegnargli tutto ciò che deve sapere a cosa ti riferisci? per iniziare perché non le mostri il luogo e le racconti come è nata? ovviamente la scuola e dopo potresti raccontargli dove può andare e dove no bene sei abbastanza intelligente no è che sei tu che sei molto stupido ma vedete? Ray ah un cagnolino un cagnolino che stronzo chi hai chiamato cane? sono un lupo non sembravi tanto infastidito quando ti hanno chiamato idiota? anche Nagy senti la necessità di collaborare con un commento sarcastico però Shiba era troppo occupato per sentirlo oh certo Shiba potrai mostrarle il campus adesso stesso prima che si faccia tardi? eh? sì va bene però la lezione? non ti preoccupare vi segnerò presenti a tutti e due credo che la cosa migliore sia mostrarle il campus adesso mentre tutto il mondo sta in classe molto bene andate bene molto bene vieni con me Chloe andiamo oh aspetta aspetta un momento prese la mia mano e la tirò con la forza non potevi evitare di perdere il fiato la mano di Shiba era molto calda non potevi mai pensare che la mano di qualcuno poteva essere così calda sentì come se il calore della sua mano salisse verso il mio petto e arrivasse al mio cuore allora Shiba mi portò a vedere tutto il campus la libreria che sarebbe appunto la biblioteca la sala di musica la classe speciale la caffetteria che sarebbe il bar uno dei tanti edifici aveva anche un salone di ballo bello era la prima volta che vedevo queste strutture e per questo dovevo nascondere la mia sorpresa bene questo è tutto quello che la scuola ha da offrire senti credi che ricorderai tutto? non credo che ricorderò tutto perfettamente però adesso ho un'idea più chiara di com'è tutto grazie Shiba è un campus molto grande suppongo che mi perderò diverse volte prima di imparare bene ci sono molti studenti oh sì tuttavia non siamo andati nel cortile il cortile sì possiamo andare dall'altro lato andiamo ancora riprendendomi la mano Shiba iniziò a camminare dai almeno lui è molto più carino più gentile rispetto a Ray ci prende la mano è così paziente ci accompagna a vedere tutto mi chiedo quanto tempo ancora mi prenderà per mano non mi dà fastidio però però non gli si fredderà la mano stringendo appunto la mano di uno zombie durante per tutto questo tempo non mi azzardai a dire niente così che continuai a camminare ah ecco appunto il cortile il giardino wow il cortile dove arrivammo era in realtà un bellissimo giardino pieno di fiori incredibile sono tanto sono bellissimi è molto bello no? fioriscono tutto l'anno apparentemente è uno dei passatempo preferiti del direttore sono incredibili è la prima volta che vedo un giardino così bello come questo venire in questa scuola è stata una una bella decisione in più in più ho potuto conoscere qualcuno così buono come te Shiba eh? buono? io? tu mi hai aiutato quando per tutti gli altri era scandaloso che io fossi una zombie quando il professore ti ha chiesto di essere la mia guida tu hai detto che non avevi problemi io io no in più la mia mano era fredda era molto fredda e l'hai stretta per tutto il cammino sei una bravissima persona all'improvviso Shiba mi lasciò la mano violentemente io non volevo prenderti per mano né niente ma che mi sembra un po' arrossito vero ragazze però lo hai fatto per questo dico che sei buono no non è questo è che cammini molto lenta ah è per questo mi dispiace allora non è che è orribile però senti la tua mano è molto calda questo è una sorpresa per me la temperatura del corpo di uno zombie è molto bassa la mia nonna che viveva con me non era nient'altro che ossa così che non avevo mai sentito prima questo forte calore ossa? gli zombie diventeranno ossa? sì non lo sapevi? no sei la prima zombie che conosco comunque perché sei venuto in questo luogo? gli zombie non devono restare isolati per evitare come si dice il contagio? oh sì mi contagerà qualcosa? contagiarti e convertirti in uno zombie? vuoi dire questo? no non ti contagerò prendo una medicina tutti i giorni per evitare che questo succeda medicina per evitare il contagio? esistono queste cose? allora non ho da preoccuparmi però se è così perché si isolano ancora gli altri? questo perché in verità questa è una domanda che anche io mi pongo perché siamo l'unica razza che necessita di essere di stare in quarantena se non possiamo contagiare nessuno non dovremmo essere considerati come pericolosi abbassai lo sguardo per riflettere su questa cosa su questa domanda l'espressione di Shiba cambiò adesso sembrava quella di un bambino che sapeva che aveva detto qualcosa di male oh mi dispiace se è un argomento di cui non ti piace parlare non ne parleremo oh no non succede niente senti Shiba cos'è questo? indicai con il dito un bosco profondo e scuro comparandolo con il bellissimo giardino il bosco trasmetteva una sensazione inquietante questo bosco anche fa parte della scuola oh questo bosco è uno dei posti pericolosi uno dei posti pericolosi lì è dove noi i lupi andiamo a cacciare guarda in alto alzando lo sguardo vedi che la luna brillava nello scuro cielo ancora le mancava poco per essere una luna completamente piena è una luna con la gobba crescente questo significa che in meno di una settimana avremo una luna piena nella notte della luna piena gli uomini lupo come me assumiamo la forma la nostra vera forma e ci trasformiamo in delle bestie pericolose quando questo succede la nostra natura dice che dobbiamo riunirci in questo bosco e cacciare insieme in gruppo cacciare cos'è che cacciate animali che vivono in questo bosco beh anche altre razze se sono sufficientemente stupide da andare lì dentro altre altre sì a volte alcuni idioti entrano lì per provare il valore del proibito tipo però una volta che ci trasformiamo perdiamo tutta la ragione pensiamo solo a uccidere così che se non vuoi morire è meglio che non entri in quel bosco specialmente se c'è la luna piena tu anche te ti trasformi in una bestia con la luna piena è chiaro sono un uomo lupo che succede perché sembri così confusa è che adesso non posso immaginarti trasformato in una bestia selvaggia tu Shiba incurvò le sopracciglia come se era infastidito allora si avvicinò a me wow già la prima scena la prima immagine che ci becchiamo sul primo episodio wow comunque devo dire che anche lui ha il suo fascino ragazze ditemi cosa ne pensate non importa se puoi immaginarlo o no vorresti morire per caso non te l'ho detto quando ci trasformiamo in bestie perdiamo il controllo completamente neanche ci ricordiamo di essere umani non vuoi diventare il cibo per cani una settimana dopo di aver iniziato la scuola no? bene vedendomi dubitare Shiba si avvicinò ancora di più vedendo il suo sguardo non potei evitare di deglutire in questo posto poche cose sono così pericolose come la curiosità non ti avvicinare al bosco hai capito? a meno che non vuoi che qualcuno si mangi questa bellissima testolina che hai sì Shiba sorrise maliziosamente e mi lasciò bene credo che questo è tutto adesso possiamo ritornare in classe Shiba cosa gli chiediamo? Shiba sei una buona persona in verità o credi che sono bella? io gli chiederei direttamente se crede che siamo belle speriamo bene credi che io sia bella? eh? beh hai menzionato bella testo bella testa che no non mi riferivo ah bene sei bella anche Ray che è ossessionato con la bellezza pensa lo stesso pensavo che gli zombie erano molto più brutti ci sono altri zombie così belli come te non mi sono mai considerata particolarmente bella però ci sono zombie molto più belli nella città a tutto il mondo i genitori dicono che sono belli i figli no però mia nonna non mi ha mai detto questo diceva solamente che la bellezza non era qualcosa non era non era altro che pelle e ossa di di fatto la signora rain la strega ha detto che i zombie giovani sono tanto belli quanto le sirene che demonio è questa strega la signora rain non importa in ogni caso in ogni caso non ti avvicinare a questo bosco hai capito dicendo questo shiba si si girò guardai un'altra volta il bosco scuro che si estendeva dietro le nostre spalle il terreno di caccia degli uomini lupo immaginai un branco di enormi bestie perseguitando la sua preda inseguendola ogni volta fino a che non la uccidono senti un caldo freddo all'improvviso e iniziai a tremare ok allora abbiamo iniziato subito male nel senso che l'immagine l'abbiamo vista però questo è finito con il finale normale il primo episodio vabbè ci rifaremo comunque ci vediamo nel prossimo video fatemi sapere cosa ne pensate se vi è piaciuto già questo primo episodio se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi e attivate anche la campanellina che si trova di fianco al tasto iscriviti perché vedo che ultimamente youtube tante volte non manda a tutti gli iscritti l'avviso che appunto è stato caricato un nuovo video o comunque tante volte non compare neanche nella home ora non so se questo problema si sia risolto per evitare questo problema o che comunque voi vi perdiate i miei video attivate anche la campanellina così resterete aggiornati su ogni video che caricherò comunque ci vediamo in un prossimo video fatemi sapere cosa ne pensate se vi piace questo personaggio e un bacione e alla prossima ciao ciao